Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS